pioveva su tutte le langhe la sua san benedetto mio padre si pigliava la sua prima acqua sottoterra era mancato nella notte di giovedì l'altro e lo seppellimmo domenica tra le due messe fortuna che il mio padrone mi aveva anticipato tre marenghi altrimenti in tutta casa nostra non c'era di che pagare i preti e la cassa e il pranzo ai parenti la pietra gliel'avremmo messa più avanti quando avessimo potuto tirare un po' su testa io ero ripartito la mattina di mercoledì mia madre voleva mettermi nel fagotto la mia parte dei vestiti di nostro padre ma io le dissi di schivarmeli che li avrei presi alla prima licenza che mi ridava Tobia ebbene mentre facevo la mia strada a piedi ero calmo sfogato mio fratello Emilio che studiava da prete sarebbe stato tranquillo e contento se mi avesse saputo così rassegnato dentro di me ma il momento che dall'alto del bene vello vidi sulla langa bassa la cascina di Tobia dall'assegnazione mi scappò tutta avevo appena sotterrato mio padre e già andavo a ripigliare in tutto e per tutto la mia vita grama neanche la morte di mio padre valeva cambiarmi il destino e allora potevo tagliare a destra arrivare a Belbo e cercarvi un gorgo profondo abbastanza invece tirai dritto perché mi era subito venuta in mente mia madre che non ha mai avuto nessuna fortuna e mio fratello che se ne tornava in seminario con una condanna come la mia mi fermai all'osteria di manera non tanto per riposarmi che per non arrivare al paviglione ancora in tempo per vedermi dar del lavoro perché avrei fatto qualche gesto dei più brutti Tobia e i suoi mi trattarono come un malato ma solo per un giorno l'indomani Tobia mi rimise sotto e arrivato a scuro mi sembrava di non aver mai lavorata una giornata come quella mi fece bene un po' come fa bene quando hai lavorato tutta notte nella guazza a incovonare non andartene a dormire ma invece rimetterti a tagliare al rosso del sole come la mia famiglia si è scesa alla mira di mandare un figlio me a servire lontano da casa è un fatto che forse io sono ancora troppo giovane per capirlo da me solo i nostri padre e madre ci spiegavano i loro affari non più di quanto ci avrebbero spiegato il modo che ci avevano fatti nascere senza mai una parola ci misero davanti il lavoro il mangiare i quattro soldi della domenica e infine per me l'andare da servitora non eravamo gli ultimi della nostra parentela essi la facevano tutti abbastanza bene chi aveva la censa chi il macello gentile chi un bel pezzo di terra propria l'abbiamo poi visto la sepoltura di nostro padre arrivarono ciascuno con la bestia e non uno a piedi da poveretto dovevamo sentirci piuttosto forti se quando io ero sugli otto anni i miei tirarono il colpo alla censa di san benedetto la presero invece i canonica coi soldi che si erano fatti imprestare da norina della posta nostro padre aveva troppa paura di far debiti allora adesso mi è chiaro che nostro padre aveva già staccata la mente dal lavorare la terra e si vedeva già a battere con carro e cavallo i mercati d'alba e diceva per il fabbisogno della sua censa e quando dovette invece richinarsi alla terra aveva perso molto di voglia e di costanza noi altri ragazzi lavoravamo sempre come prima anche se lui ci comandava e ci accudiva meno ma a mezzogiorno e a cena ci trovavamo davanti sempre più poca polenta e quasi più niente robiola e a natale non vedemmo più i fichi secchi e tantomeno i mandarini nostra madre raddoppiò la sua lavorazione di formaggio fermentato ma non ce ne lasciava toccare neanche le briciole sull'orlo della conca e quando seppe che Agnella ne pagavano l'arbarella un soldo di più che al nostro paese andò a venderlo Agnella e saputo poi che a Murazzano lo pagavano qualcosa meglio si faceva due colline per andarlo a vendere lassù di modo che diventò in fretta come la sorella maggiore di nostro padre sempre col cuore in bocca gli occhi o troppo lustri o troppo smorti ma i giusti in faccia tutta bianca con delle macchie rosse come se a ogni momento fosse appena arrivata dall'aver fatto di corsa l'erta da Belbo a casa quando noi eravamo via lei pregava e si parlava ad alta voce una volta che tornai un momento dalla terra la presi che cagliava il latte e si diceva avessi adesso quella figlia diceva di nostra sorella nata dopo Stefano è morta prima che nascessi io d'un male nella testa si chiamava Giulia come nostra nonna di Monesiglio e a Stefano non so ma a me e a Emilio non ci mancava però anche allora io non sono mai passato davanti al campo santo guardando da un'altra parte come un padrone che passa davanti alla sua terra ci andava male lo diceva la misura del mangiare e il risparmio che facevamo della legna tanto che tutte le volte che vedevo nostra madre per tirar fuori dei soldi e contarli sulla mano per spenderli io tremavo tremavo veramente come se m'aspettassi di veder cascare la volta dopo che le è stata tolta una pietra finì che nelle sere d'autunno ed inverno mandavamo Emilio alla cascina più prossima a farsi accendere il lume per avanzare lo zolfino io ci andai una volta sola una sera che Emilio aveva la febbre e quelli del monastero mi accesero il lume ma la vecchia mi disse va e dia ai tuoi che un'altra volta veniamo noi da voi col lume spento e lo zolfino dovrete mettercelo voi nostro padre vendette mezza la riva di legna e anche quel prato che avevamo lungo belbo ma il denaro di quelle vendite non ci fece pro andò quasi tutto a pagare le taglie e a far starvi bravi i canonica che non ci togliessero il credito alla censa è allora che i nostri si indebitarono con la vecchia maestra fresia di quelle cento lire che hanno poi scritto il destino di mio fratello Emilio per chiedere la grazia di poter tirar su testa un anno nostra madre andò pellegrina al santuario della Madonna del Deserto che è lontano da noi sopra un monte dietro il quale si può dire che c'è subito il mare mi ricordo come adesso era un po' che noi alzata la schiena guardavamo la processione delle donne sulla strada di Monbarcaro quando esce di casa nostra madre vestita da chiesa e con un fagottino di roba mangiativa nostro padre le uscì appresso e le gridava vecchia bagascia non mi vai mica via con quello stroppo di pelandracce lei si voltò ma senza fermarsi e solo per guardarlo negli occhi e lui sempre dietro con un principio di corsa come per assicolarsi da chi apparla e nel mentre le diceva mi torni indietro fra chissà quanti giorni con tutti i piedi gonfi e tutto il corpo stracco che per una settimana non mi puoi più servire allora lei si fermò e gli disse lasciami andare braida sono sette anni che non esco da questa casa lasciami andare che è per la mia anima l'anima vola le grida lui in faccia ma poi le disse donna con del buon tempo hai almeno lasciato preparato poté partire e dopo un po' la vedemmo mischiarsi alla processione aveva un buon passo e presto fu tra le prime e non solo dal passo si vedeva che aveva buona intenzione ma anche perché non si voltava e non cercava compagne mentre tutte le altre andavano come per divertimento tornò di notte dopo quattro giorni e la mattina si levò alla sua ora di sempre e fece il suo lavoro di tutti i giorni ma non giovò Dio non fu mai con noi poi il re chiamò Stefano al soldato andò alla leva e tirò un numero basso nostro padre bestemmiò nostra madre pianse ma Stefano lui era contento lo sentii quella sera che io ero in pastura vicino a dove lui tutto nudo si lavava in belbo gridare d'allegria ma dei gridi selvaggi che misero paura a me e alle pecore basta stette a casa ancora due mesi se ne andava al sabato coi suoi soci coscritti a fare il giro delle osterie della nostra langa e tornava solo nella notte del lunedì ubriaco che dovevamo sbatterlo nella stalla e poi partì una notte che noi altri due non fummo neanche svegliati si scriveva e leggevamo che era in artiglieria e a Oneglia di questa città io non sapevo altro che era in riva al mare avrei aspettato che venisse in licenza per domandargli qualche cosa sul mare ma Stefano in licenza non veniva mandò solo una sua fotografia per vederla bisognava entrare nella stanza dei vecchi era là appesa a un cordino in mezzo ai rametti d'olivo e alle candele benedette una volta ci scrisse che lui non era di quei soldati che sudano a far l'istruzione e le marce lui più furbo si era messo ad attendente a un ufficiale e stava benone allora i nostri fecero prendere la penna in mano a Emilio e scrivere a Stefano che ci mandasse la Deca se stava tanto bene da quella lettera non ci scrisse più da lui non vedemmo un centesimo e in licenza non ci venne mai noi a casa non ce la facevamo a scalare uno scudo dal debito con la maestra lo congedarono dopo ventun mesi si era fatto più massiccio e più superbo gli ci volle un mese buono per riabituarsi al lavoro e ripigliarlo adesso andava tutte le sere all'osteria e tante notti rientrava ubriaco del vino che gli offrivano in paga del suo raccontare con noi altri suoi fratelli sembrava che crepasse a parlare un po' del mare e di quei posti che aveva visto ma all'osteria il mazzo ce l'aveva sempre lui e parlava sempre di donne forestiere che faceva schifo si era rimesso a lavorare con me dietro le bestie che Emilio conduceva ma io che avevo i bracci in metà dei suoi rendevo il doppio di lui sul lavoro lui alzava la schiena ogni cinque minuti e guardava sovente al passo della bossola tornato Stefano in famiglia venne l'ora di Emilio di partire andò a studiare da prete nel seminario di Alba avevamo potuto scalare sì e no due scudi dal debito con la maestra e lei trovandosi con un piede nella tomba e senza nessuna necessità di riavere le sue cento lira c'era venuta una sera in casa a dire ai nostri che ci rimetteva il debito se le mandavamo il nostro Emilio a farsi prete non solo ci rimetteva il debito ma ci passava uno scudo al mese per il suo mantenimento in seminario e qualche altra lira l'avrebbe fatta sborsare al parroco Emilio non disse niente come niente disse io davanti a Tobia Rabino che diventava mio padrone i vecchi dissero di sì abbastanza in fretta il motivo può anche aver offeso nostro signore ma però mio fratello Emilio a fare il prete andava bene prima di tutto perché Emilio era buono e quello che in chiesa ci stava di più e meglio e poi a scuola era il primo di tutto San Benedetto e i miei quando avevano qualche cosa da chiedere al cielo era lui che facevano pregare perché era il più innocente e poi era di poche forze cosa poteva fare senza penare era solo stare davanti alle bestie partì per il seminario un sabato mattina su biroccio di Canonica che andava a fare il mercato ad Alba lo baciammo tutti sulle guance prima che montasse nostra madre piangeva nostro padre le dava dei nomi perché piangeva e le disse oh stupida quando io ti mancherò cosa ti sogni di meglio che andare a star con lui dove sarà parroco e fargli da perpetua c'era Stefano io che non mi capacitavo che tra cinque minuti sarei stato sulla terra senza più Emilio vicino c'era la maestra Fresia che parlava italiano con Emilio il parroco non c'era ma Emilio era stato in Canonica alla vigilia a sentire come doveva comportarsi in seminario i primi tempi Canonica non si fidava a dare al cavallo perché sentiva i pianti di nostra madre le venne vicino la maestra e le disse Melina ma pensate alla consolazione di quando dirà la sua prima messa e voi sarete la prima a ricevere la sua ostia poi nostro padre fece un segno a Canonica e partirono non ci avrei creduto che mi avesse detto che l'avrei rivisto prima che fosse passato l'anno e proprio in Alba dove sarei andato col mio padrone Tobia a me toccò che andavo per i 17 anni e a dispetto della carestia di casa nostra pesavo 7 miria ero tanto grosso d'ossa quando mi misi a dormire quella notte sapevo che l'indomani nostro padre sarebbe andato al mercato di Niella ma da solo sicché mi diede uno scrollone la sua voce nello scuro della prima mattina Agostino levati e vestiti da chiesa non dirò sicuramente che fu un presentimento tutto capitò come se io fossi un agnello in tempo di Pasqua andare ai mercati mi piaceva ed è a un mercato che ho avuto la mia condanna non successe subito potrei girare ben bene il mercato di Niella e mi incrociai più di una volta con l'uomo della bassa langa che un'ora dopo mi avrebbe tastato le braccia e misurato a spanne la schiena e contrattato poi con mio padre il mio valore disse Tobia Rabino vi do per lui sette marenghi l'anno